Buongiorno, i signori sono la famiglia? Noi siamo la famiglia Nussolese-Quartarelli, abbiamo già fatto 50 anni di matrimonio, il sindaco Moratti ci ha mandato la lettere, il vito e con anche i saluti e le parole, la maledizia Moratti, noi la stimiamo molto e vogliamo che venga con la vita. Anche lei signora? E vince anche l'Inter. Va bene, grazie.